Problemi con le lumache? Ti sei stufato che siano lì tutto il giorno a mangiarti l'insalata nel tuo bel orticello? Vorresti mandarle via, ma ovviamente in modo naturale ed ecologico. Ed immagino che non sai come fare. La soluzione giusta te la diamo noi. Barriere anti-lumache petalo rosso. Si tratta di un desabituante per lumache in granuli 100% naturale. Al suo interno contiene granuli minerali di zeolite ciabasite. Ovvero si ha alluminio di silicato di sodio, potassio, calcio e magnesio. Il fine di questo prodotto è creare una zona asciutta e quindi sfavorevole alla presenza di lumache. In caso di contatto diretto con le lumache creerà allora una sorta di disadattazione. Questo farà sì che le lumache si allontanino in cerca di zone con più presenza d'acqua. L'utilizzo è molto semplice. Prenderemo il prodotto e lo distribuiremo lungo tutto il perimetro della zona che vogliamo proteggere. Per lineare inoltre che il prodotto è 100% naturale, non è nocivo né per le lumache né per l'uomo né tantomeno per i nostri amici cani e gatti. Ovviamente il prodotto lo trovate da... Il prodotto lo trovate da...